Mi ha mai capito di litigare con un artista in studio? Eeeh... Eh, vabbè, sì. A me sì, ma sempre per scelte artistiche. Ok. Io sono uno molto... Evo molto conflittuale prima. Adesso mi sono andato una bella calmata, ho capito. Due molto più mite di me, si vede. Bello zen. Sì, bello zen. Però comunque, io ho la mia visione. Molte volte ho cercato... Cioè, più che altro con VediNoids Passiamo tanto tempo in studio, forse troppo E a volte comunque abbiamo litigato per delle minchiate Però poi siamo tornati sui nostri passi E insomma, se parliamo, insomma, c'è sempre del dialogo Non sono uno di quelli che dice No, se non fai la cosa così, butto il pezzo Che è una mentalità me che anni 90 Ti assicuro che è successo in questi giorni Senti ti raccontare anch'io, sì Ti è capitato di litigare con qualcuno? No. No? No, mi sembra di no. Ma io non litigo mai con nessuno. Che fai? No, ma lui è uno sciamano. Che fai?